Buongiorno a tutti, oggi martedì 30 aprile ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 14 versetti dal 27 al 31. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore, avete udito che io ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo, contro di me non può nulla ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha mandato così io agisco. Gesù comunica la sua pace ai discepoli, è una pace diversa, ce lo spiega nel Vangelo, dalla pace del mondo perché Gesù risorto ci dà lo shalom di Dio. E cos'è questo shalom di Dio? È l'organizzazione completa di tutta la vita attorno ai valori della giustizia, della fraternità, la pace, il dono di Dio che ci fa rallegrare al pensiero che Gesù è nel Padre e ci ama come il Padre ama ogni cosa che ha creato. Accogliamo oggi allora la pace del risorto, la gioia di poter contemplare questi cieli aperti per noi perché Gesù è salito al cielo e ci aspetta nel Paradiso. La pace del Paradiso dovrebbe essere la nostra vera speranza, la nostra unica gioia. Il segreto è non avere paura, ce lo dice Gesù, non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Ascoltiamo allora l'invito del Signore, concentriamoci oggi su ciò che è veramente importante. A questo proposito mi viene in mente un aneddoto che riguarda San Filippo Neri. Mi piacerebbe leggervelo perché è veramente interessante. Un giorno un ragazzo del suo oratorio annunciò a tutti la sua decisione. Voglio diventare vescovo. Allora San Filippo si fece serio e gli chiese e poi? Poi fatto il primo scalino potrei ottenere qualche enunziatura. Allora il santo gli chiese ah certo e poi? Il giovane gli rispose e poi potrei diventare cardinale. Ah cardinale disse Filippo e poi? E poi papa? gli chiese Filippo. Allora il ragazzo gli risponde eh forse sì. Allora San Filippo gli chiese e poi basta Filippo la vita finirà. Allora Filippo con dolcezza e invitandolo profondamente a riflettere gli chiese e allora che cosa hai raccolto caro ragazzo mio? La gioia, la gioia, il paradiso. Questo aneddoto ci insegna tante cose eh ci insegna che tante volte noi ci procuriamo sofferenze inutili solo perché ci crediamo il centro del mondo eh oppure diamo credito a qualche nostra qualità invece la vita ci serve per imparare a ringraziare ad avere speranza non ad avere ambizioni dovrebbero imparare a gioire di quello che ogni giorno ci viene donato e rendere grazie ringraziare perché tutto ci verrà donato crediamo senza paura e avremo la pace. Buona giornata.